Nel 2016 Rosalia ha esordito nel mercato musicale, attraverso la collaborazione al singolo Antes de Morirme con il rapper C. Tangana. Il brano ha acquisito notorietà a livello spagnolo e internazionale nel 2018, in seguito al suo inserimento nella popolare serie televisiva Netflix Elite. Nel 2016 Rosalia si è esibita davanti a una folla di 100 persone al Tablao del Carmen, un locale di musica flamenco all'interno del Museo Poblé Espagnol di Barcellona. Tra il pubblico era presente anche Raúl Refri, che Rosalia aveva invitato allo spettacolo. Successivamente i due hanno iniziato a lavorare insieme per la realizzazione di due progetti discografici, anche se tale proposito è stato accantonato dopo la pubblicazione di Los Angeles. Rosalia ha firmato un contratto discografico con l'etichetta Universal Music a fine 2016 e si è trasferita in California. Il 10 febbraio 2017 è stato diffuso il videoclip del primo singolo ufficiale della cantante intitolato Catalina. Los Angeles, il primo album in studio di Rosalia, prodotto e cointerpretato da Raúl Refri, è stato presentato nello stesso periodo. Il disco, che contiene riarrangiamenti di vari classici, della musica flamenco, ha raggiunto il nono posto nella classifica spagnola. L'album è stato ampiamente considerato dalla critica specializzata uno dei migliori di quell'annata e, per questo motivo, Rosalia è stata nominata come miglior nuova artista agli annuali Latin Grammy Awards. Sempre nel 2017, l'emittente radiotelevisiva pubblica spagnola RTVE ha invitato la cantante a prendere parte alla procedura di preselezione per decretare l'artista che avrebbe rappresentato la Spagna all'Eurovision Song Contest 2017, offerta che la cantante ha dovuto declinare a causa di conflitti di programmazione con la promozione del suo disco di debutto. Nel 2016, Rosalia ha esordito nel mercato musicale, attraverso la collaborazione al singolo Antes de morirme con il rapper C. Tangana. Il brano ha acquisito notorietà a livello spagnolo e internazionale nel 2018, in seguito al suo inserimento nella popolare serie televisiva Netflix Elite. Nel 2016, Rosalia si è esibita davanti a una folla di 100 persone al tablao del Carmen. Un locale di musica flamenco all'interno del Museo Pobles Español di Barcellona. Tra il pubblico era presente anche Raúl Refri, che Rosalia aveva invitato allo spettacolo. Successivamente, i due hanno iniziato a lavorare insieme per la realizzazione di due progetti discografici, anche se tale proposito è stato accantonato dopo la pubblicazione di Los Angeles. Rosalia ha firmato un contratto discografico con l'etichetta Universal Music a fine 2016 e si è trasferita in California. Il 10 febbraio 2017 è stato diffuso il videoclip del primo singolo ufficiale della cantante, intitolato Catalina. Los Angeles, il primo album in studio di Rosalia, prodotto e cointerpretato da Raúl Refri, è stato presentato nello stesso periodo. Il disco, che contiene riarrangiamenti di vari classici della musica flamenco, ha raggiunto il nono posto nella classifica spagnola. L'album è stato ampiamente considerato dalla critica specializzata uno dei migliori di quell'annata e, per questo motivo, Rosalia è stata nominata come miglior nuova artista agli annuali Latin Grammy Awards. Sempre nel 2017, l'emittente radiotelevisiva pubblica spagnola RTVE ha invitato la cantante a prendere parte alla procedura di preselezione per decretare l'artista che avrebbe rappresentato la Spagna all'Eurovision Song Contest 2017, offerta che la cantante ha dovuto declinare a causa di conflitti di programmazione con la promozione del suo disco di debutto. Rosalia e Raúl Refri hanno intrapreso un tour di concerti, il Los Angeles Tour, a supporto dell'album. Il tour è iniziato l'11 febbraio 2017 a Granada e si è concluso il 1 marzo 2018 al Palau della Musica Catalana di Barcellona. Durante il tour nel 2017, la cantante spagnola Bebe ha assistito a un loro concerto insieme al collega Juanes, che è rimasto colpito dalle capacità artistiche di Rosalia, al punto da chiedere alla sua manager Rebecca Leon di lavorare con lei. Leon ha successivamente acconsentito a rappresentare la cantante attraverso la sua casa di produzione Lionfish Entertainment. La collaborazione tra le due è proseguita fino al gennaio 2023. Il 25 maggio 2018, Rosalia ha figurato come artista ospite nell'album Vibras di J Balvin, contribuendo vocalmente alla traccia Brillo. Cinque giorni più tardi è stato pubblicato il singolo Malamente, che ha ottenuto un riscontro commerciale positivo, spingendosi fino al secondo posto nella classifica dei singoli spagnola e, ottenendo cinque dischi di platino per le 200.000 unità vendute a livello nazionale, nonché un disco di platino dalla Recording Industry Association of America, per aver venduto più di 60.000 copie negli Stati Uniti. Il brano si è anche aggiudicato due Latin Grammy Awards, nelle categorie di miglior interpretazione Urban Fusion e miglior canzone alternativa. I due singoli successivi pubblicati dall'artista, Pienso en tu mirà e Dimi nombre, certificati rispettivamente doppio disco di platino e disco di platino in Spagna, hanno bissato il successo del predecessore. Dimi nombre ha regalato a Rosalia il suo primo singolo numero uno nella classifica spagnola. Tutti e tre i singoli hanno anticipato la pubblicazione del secondo album di inediti El Malquerer, che è stato messo in commercio a partire dal novembre 2018. Il disco, un concept album liberamente ispirato al romanzo medievale Roman de Flamenca, frutto della collaborazione della cantante con il produttore El Guincio, è arrivato alla vetta della classifica spagnola ed è stato certificato triplo disco di platino per aver venduto più di 120.000 copie. Con il suo ingresso nelle classifiche di Belgio, Paesi Bassi, Portogallo e Svizzera, ha anche segnato l'esordio internazionale dell'artista. Elogiato dalla critica specializzata, El Malquerer è stato inserito in numerose liste relative ai migliori album dell'anno ed è stato premiato con due Latin Grammy Awards e, soprattutto, un Grammy Award vinto nel 2020. Rolling Stone lo ha anche incluso nell'edizione aggiornata al 2020 dei 500 migliori album della storia. Nel 2019, Rosalia ha avuto un ruolo nella pellicola Dolori Gloria di Pedro Almodovar con protagonisti Antonio Banderas e Penelope Cruz. Tuttavia, questa non era la prima volta in cui Rosalia è stata coinvolta in una produzione audiovisiva. L'anno precedente, la cantante ha eseguito la sigla della seconda stagione della serie televisiva Pacquita Salas e, contribuito vocalmente, alla colonna sonora della commedia spagnola Arde Madrid. Nel febbraio 2019, nell'ambito della 33-tra edizione dei Premi Goya, Rosalia si è esibita insieme all'Orfeo Català sulle note di una reinterpretazione del brano Mequedo Contigo del gruppo Los Ciunguitos, la quale ha ricevuto il plauso universale della critica e del pubblico. Per promuovere El Mal Querer, Rosalia ha intrapreso una tournée mondiale che ha interessato l'America del Sud, l'America del Nord, l'Europa e il Marocco, da marzo 2019. Durante il tour, ha preso parte ai festival musicali Lolla Paluzza, Glastonbury, Coaccella e Primavera Sound, la cui esibizione ha catturato l'interesse di 63.000 partecipanti. Il tour si è concluso a dicembre 2019, con tre eventi sold out, tenuti tra il Palau San Jordi di Barcellona e il Witzink Center di Madrid. Da marzo 2019, con la pubblicazione del singolo Con Altura, insieme al cantante e produttore El Guincio e il cantante colombiano J Balvin, Rosalia ha iniziato a ottenere riconoscenza e popolarità in tutto il mondo. Il videoclip musicale di Con Altura, diretto da Director X, è stato proclamato il video di un artista femminile più visualizzato di tutto il 2019 su YouTube, con oltre un miliardo di visualizzazioni accumulate. Grazie a Con Altura, Rosalia ha vinto i suoi primi due MTV Video Music Awards e un MTV Europe Music Award per la miglior collaborazione. Sempre nel 2019 sono stati pubblicati i singoli Out e Couture, Millionaria, Yo XT, Tu X Me e A Palais, i primi tre dei quali hanno tutti raggiunto la vetta della classifica spagnola. Millionaria, cantato in lingua catalana, è stato distribuito insieme all'EP Fucking Money Man, contenente al suo interno la B-side Dios nos libre del dinero. A Palais contiene invece vocali non accreditati del musicista britannico James Blake, con cui Rosalia aveva già collaborato alcuni mesi prima al brano Barefoot in the Park. Barefoot in the Park. Sempre nel 2019, Rosalia è figurata tra gli artisti presenti nella colonna sonora della stagione conclusiva della fortunata serie televisiva Il Trono di Spade, per cui ha inciso il brano Me Traicionaste insieme al cantautore peruviano Achal. Nello stesso anno si è unita ai rapper statunitensi Travis Scott e Lil Baby per la realizzazione del remix del brano di Scott Highest in the Room, incluso nell'album compilation Jack Boys e scelto come singolo radiofonico. Il remix ha ottenuto particolare successo in Nuova Zelanda, dove ha raggiunto la novea posizione in classifica ed è stato certificato disco d'oro. Nel primo semestre del 2020, Rosalia ha pubblicato i singoli «Juro che», «Dolerme» e «TKN», a distanza di due mesi l'uno dall'altro. «Juro che» è stato presentato per la prima volta dal vivo durante la 62a edizione dei Grammy Award, facendo di Rosalia la prima artista spagnola a esibirsi durante la cerimonia di premiazione. Con «TKN», per cui Rosalia si è avvalsa nuovamente della collaborazione di Travis Scott, la cantante ha ottenuto il suo primo ingresso nella Billboard Hot 100 statunitense e il brano è diventato virale sulla piattaforma TikTok. Nel mese di giugno successivo, Rosalia ha affiancato la musicista venezuelana Arca nel singolo KLK, mentre a settembre ha preso parte al remix di «Relazione di SEC» assieme a Daddy Yankee, J Balvin e Farruko, che ha raggiunto la 68 posizione della Hot 100 e superato di due posti il picco di TKN. Sebbene le sessioni di registrazione per il terzo album di inediti di Rosalia siano iniziate nel 2019, i primi dettagli circa il progetto risalgono all'estate 2020. Durante un'intervista, la cantante aveva proposto una prima data di pubblicazione per lo stesso anno, confermando contemporaneamente l'esclusione dal progetto di tutti e otto i singoli pubblicati dopo El Malquerer e accantonando l'idea di pubblicare un box set o una compilation che includesse i suddetti brani. All'inizio del 2020, a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dal governo correlate alla pandemia di Covid-19, Rosalia si è trasferita a Miami per poi recarsi in studio di registrazione a Porto Rico e in Repubblica Dominicana. Rosalia ha preso parte come artista ospite all'album e l'ultimo tour del mondo di Bad Bunny 2020, collaborando alla traccia La Noche de Anoce. Sebbene non sia stato pubblicato come singolo, il brano è stato eseguito al noto talk show statunitense Saturday Night Live e ha riscosso un enorme successo commerciale a livello internazionale, esordendo, al secondo posto della classifica giornaliera, dei brani più ascoltati globalmente su Spotify con 6 miette a 630.000 riproduzioni, segnando all'epoca il più grande esordio per una canzone completamente cantata in lingua spagnola nella storia. Nel 2021, Rosalia ha inciso il brano Colonna sonora del secondo episodio speciale della prima stagione della serie televisiva Euphoria. Il singolo, intitolato Lo Vas a Olvidar, è frutto di una collaborazione con la cantante statunitense Billie Eilish. Nello stesso anno, ha collaborato anche con l'artista dominicana Tokischa alla realizzazione del brano Linda, per cui è stato realizzato un video musicale. Il 2 novembre 2021, Rosalia ha annunciato attraverso i propri canali social il terzo album in studio Moto Mami, la cui data di pubblicazione è stata successivamente fissata al 18 marzo 2022. Il primo estratto, La Fama, in collaborazione con The Weeknd, è stato distribuito l'11 novembre successivo. Si tratta della seconda collaborazione tra i due dopo il remix della hit Blinding Lights dell'anno precedente. La Fama ha debuttato direttamente al vertice della classifica dei singoli spagnola, venendo premiata con un disco di platino a un mese di distanza dalla sua pubblicazione e ha ottenuto un forte successo commerciale anche in Francia, dove ha scalato le classifiche nel corso dei primi mesi del 2022 fino a raggiungere la top five. In concomitanza con la diffusione della copertina e della lista tracce dell'album, è stato reso disponibile il secondo estratto Saoko il 4 febbraio 2022. Il 24 febbraio, Chiken Teriyaki è stato messo in commercio come terzo singolo e, nella settimana precedente alla pubblicazione del disco, Rosalia è stata ospite dei talk show statunitensi The Tonight Show e Saturday Night Live. L'ultima pubblicazione prima dell'uscita dell'album è stata il singolo promozionale Hentai, accompagnato dal relativo videoclip musicale. Al momento della sua pubblicazione, Motomami ha ottenuto un buon riscontro sia da parte della critica che del pubblico, debuttando al primo posto delle classifiche spagnola e portoghese e regalando alla cantante il suo primo ingresso nelle classifiche di Canada, Italia, Stati Uniti e Regno Unito. In Spagna, al termine della prima settimana di disponibilità, la cantante ha occupato contestualmente il primo posto in tutte e tre le principali classifiche musicali del paese iberico, oltre a quella degli album, anche quella dei vinili e quella dei brani musicali grazie al successo ottenuto dalla traccia Candy. Premiato con un Grammy Award e quattro Latin Grammy Awards, Motomami, a fine 2022, è risultato essere il disco più acclamato dell'anno presso l'aggregatore di recensioni Metacritic con un punteggio di 94-100. Per promuovere il progetto, Rosalia ha sostenuto il Motomami World Tour con date in Spagna, Europa e nelle Americhe da luglio a dicembre 2022. Questo è stato il terzo tour musicale complessivo della cantante e il primo per ordine di capacità. Durante la tappa spagnola del tour, ha presentato per la prima volta alcuni inediti, tra cui Despecià, pubblicato come singolo digitale nel mese di luglio. Il singolo ha ottenuto successo a livello internazionale, diventando il primo ingresso di Rosalia come solista nella Billboard Hot 100. Il 16 dicembre successivo è stata pubblicata una versione remix del brano insieme alla rapper statunitense Cardi B. Nel mese di settembre 2022, Rosalia è stata coinvolta nella realizzazione degli album Formula Vol. 3 del cantante statunitense Romeo Santos e La ultima mission del duo portoricano Wisin y Yandel, con cui ha rispettivamente inciso il singolo El Pagnuelo e la rivisitazione del classico Besos Mojados. Precedentemente, Santos aveva aiutato Rosalia nella ricerca del repertorio musicale, da cui trarre ispirazione per la composizione del suo brano Baciata la fama. Il 9 settembre è stata diffusa la versione deluxe di Moto Mami intitolata Moto Mami Plus con l'aggiunta di otto nuove tracce inclusi Despecià e gli altri brani presentati in tour e il remix ufficiale di Candy in collaborazione con Cenco Corleone del duo reggaeton Plan B. Nel gennaio 2023 Rosalia ha pubblicato il singolo LLULM interpretato in catalano e inglese per promuovere la collaborazione con il marchio di bevande Coca-Cola. Due mesi più tardi, il 24 marzo, è stato messo in commercio l'EPRA realizzato congiuntamente all'allora compagno Rauw Alejandro e composto da tre tracce inedite. In concomitanza con l'uscita del progetto è stato estratto come singolo radiofonico BESO che insieme alla traccia Vampiros è stato supportato da un video musicale. Sempre nel mese di marzo 2023 la cantante ha iniziato la sua partecipazione a numerosi festival musicali dal Sud America esibendosi nuovamente anche negli Stati Uniti e in Europa. L'ultimo concerto nel continente americano si è tenuto il 28 aprile presso la Piazza della Costituzione El Zocalo di Città del Messico dinanzi a 160.000 spettatori trattasi dello spettacolo con maggiori presenze nella carriera della cantante. A giugno 2023 è uscito l'inedito Tuia mentre il 22 luglio seguente la cantante ha tenuto all'Olla Palusa Festival di Parigi il concerto che ha sancito la conclusione dell'era costruita intorno a Motomami. Attraverso un comunicato stampa è stato confermato che durante i due anni di promozione dell'album Rosalia si è esibita dinanzi a quasi due milioni di spettatori in 21 paesi e tre continenti. L'annata 2023 si è chiusa con la scritturazione a manager di Jaime Levin noto per aver gestito in passato la cantante colombiana Shakira dopo aver amichevolmente concluso la relazione professionale con Rebecca Leon e con la pubblicazione di Oral singolo di beneficenza inciso insieme a Björk e volto a contrastare l'allevamento intensivo di salmone in Islanda terra natia di Björk. Dal 2016 al 2018 Rosalia è stata legata sentimentalmente al rapper con nazionale C. Tangana. I due hanno collaborato al brano del 2016 Antes de morirme e composto insieme otto delle undici tracce contenute all'interno dell'album di Rosalia El Malquerer. Dopo la fine della loro relazione avvenuta nel maggio 2018 hanno mantenuto un rapporto cordiale fino al dicembre 2020 quando Tangana si è espresso negativamente nei confronti della cantante durante un'intervista con Rock Deluxe. Da fine 2019 Rosalia ha frequentato il cantante portoricano Raul Alejandro il quale le ha dedicato la canzone A Quel Nap La coppia ha pubblicamente confermato la relazione nel settembre 2021 in occasione del 29esimo compleanno della cantante. Due anni più tardi, nel marzo 2023, in occasione della pubblicazione del videoclip del loro brano Beso, è stato svelato anche l'avvenuto fidanzamento ufficiale, sebbene nel successivo mese di luglio venga confermata ufficialmente dalla coppia la fine della loro relazione. Dalla fine del 2023, ha una relazione con l'attore statunitense Jeremy Allen White. Nell'ambito delle elezioni generali in Spagna del novembre 2019, Rosalia si è pubblicamente schierata contro il movimento politico di estrema destra Vox. Alla richiesta di parlare delle proprie idee politiche durante una conferenza stampa tenuta alcuni giorni dopo, la cantante ha chiarito si trattasse di una questione estremamente delicata, per cui preferì non esprimersi in merito. Nel maggio 2020, Rosalia ha espresso il proprio disappunto circa la morte di George Floyd e ha preso parte a una delle proteste tenute a Miami, da cui si è congedata in anticipo per poter partecipare a un concerto benefico virtuale organizzato dall'emittente televisiva messicana Telehit. Nonostante il successo ottenuto, in virtù del quale Rosalia ha contribuito in prima persona a rendere la straziante musica dell'Andalusia un fenomeno di interesse globale, la rinascita della musica flamenco, accostata all'opera di Rosalia, ha stimolato l'apertura di un dibattito circa il tema dell'appropriazione culturale, attivamente discusso sia sulla rete sociale che presso le sedi accademiche. Nello specifico, la cantante ha attirato su di sé critiche a livello nazionale e internazionale, venendo tacciata di appropriazione culturale nei confronti dell'etnia gitana spagnola, la quale storicamente rivendica la musica flamenco come un'espressione artistica tipica della propria cultura impugnata, come arma di difesa identitaria, nei confronti del sentimento di anti-ziganismo promosso dalle popolazioni europee con l'arrivo dei gitani. Secondo i sostenitori di questa linea di pensiero purista, l'interpretazione della musica flamenco da parte di individui catalani, senza alcun legame identitario con l'Andalusia o con le popolazioni gitane, viene considerata illegittima. D'altra parte, i sostenitori di Rosalia ritengono che, in un mondo globale e interconnesso, in cui l'esposizione alle tradizioni culturali e alle forme d'arte altrui è ampiamente accessibile, il successo della cantante può ispirare l'apprezzamento internazionale di questa forma d'arte, nella stessa misura in cui l'utilizzo di elementi tradizionali spagnoli da parte della cantante Madonna, aveva suscitato l'interesse internazionale nei confronti della cultura e dell'arte spagnola. A tal proposito, il New York Times ha preso le difese della cantante scrivendo nel 2019 Il dibattito sull'appropriazione culturale della cantante spagnola è ingiusto. La sua musica incarna, con autorevolezza, la forma artistica più eloquente della globalizzazione, il rimaneggiamento. Chiamata in causa sull'argomento durante un'intervista, Rosalie ha replicato affermando che ritiene si tratti più che altro di una questione politica e di privilegi. La vittoria come miglior video latino, conseguita con il brano Con altura agli MTV Video Music Awards 2019, ha portato all'apertura di una discussione correlata, ovvero quella dell'associazione del termine latino utilizzato per classificare una lingua romanza, come lo spagnolo, con l'omonima espressione utilizzata in lingua inglese per identificare le popolazioni ispaniche dell'America Latina, estendendo il dibattito sull'appropriazione culturale alla possibilità di essere candidata o meno nelle categorie latine alle cerimonie di premiazione internazionali. La questione è stata affrontata anche durante la partecipazione della cantante alla Latin Billboard Music Week del 2020, durante la quale la conduttrice di VP Latin Leila Cobo ha precisato che Billboard categorizza la musica cantata in lingua spagnola come musica latina, notando come sia molto interessante il fatto che questo termine venga utilizzato solo negli Stati Uniti d'America. Rosalia ha ammesso di sentirsi a disagio quando questo termine viene utilizzato nei suoi confronti, commento che ha sollevato delle critiche sulla rete sociale. La musica di Rosalia è stata descritta come impegnativa sia per se stessa che per i suoi ascoltatori, caratterizzata dalla concettualità delle sue opere e dall'inclinazione verso l'esplorazione di generi musicali diversi, evolvendosi dal folk al mainstream e al pop avanguardistico. Rosalia ha iniziato la sua carriera professionale come interprete della musica flamenco. La pubblicazione dell'album di debutto Los Angeles 2017 attesta il modo in cui Rosalia si pone come cantaora contemporanea che ha meglio compreso i tempi attuali, venendo descritta come un'anima antica intrappolata in un corpo giovane a causa della maturità tipicamente richiesta dal genere. La pubblicazione del singolo Malamente 2018 ha portato la critica specializzata ad etichettare la musica di Rosalia come una fusione eccitante di flamenco e arti moderne in cui la voce della cantante suona come un morbido velluto liquido e che consuma l'ascoltatore attraverso l'impiego di tamburi e sintetizzatori. El Mal Querer, per il quale Rosalia resta ispirata alla musica flamenco, è stato descritto da The Guardian come potente e intelligente allo stesso tempo, più complesso di qualsiasi altra proposta pop latina attualmente presente in classifica. A partire dal successo internazionale ottenuto dal singolo Con Altura, la musica di Rosalia si è evoluta verso sonorità maggiormente orientate ai generi urban e reggaeton. Rolling Stone ha definito il brano come una versione moderna che attinge alla grande tradizione del flamenco e si ispira ai suoni afro-caraibici. Rosalia l'ha descritto come il suo personale omaggio al reggaeton classico. Il brano ha segnato una virata stilistica per la cantante verso un suono maggiormente pop e radiofonico. Ne costituiscono un esempio gli altri singoli pubblicati nel corso del 2019. Sebbene disponga di un'ampia estensione vocale, Rosalia ricorre spesso all'impiego per fini estetici dell'autotune sia per registrare le sue canzoni che nelle esibizioni dal vivo. L'acclamato album Moto Mami 2022 è stato descritto da Rolling Stone come una delle produzioni più audaci e spericolate degli ultimi anni e viene considerato come il precursore di una corrente musicale protesa alla ridefinizione della musica commerciale, attingendo al genere reggaeton come influenza principale e fondendolo con la musica tradizionale dell'America Latina e con altri generi come l'industrial o il jazz. Rosalia si è avvicinata al mondo del flamenco da adolescente grazie ai musicisti Camarón de la Isla e La Nina de los Peines che, insieme a James Blake, costituiscono le più significative influenze musicali per la cantante. Di La Nina de los Peines apprezza la capacità di essersi inserita con successo all'interno della scena musicale flamenco dell'epoca, nonostante questo fosse una forma d'arte tradizionalmente maschile, diventando una professionista in un momento storico in cui era molto insolito per le donne ricoprire questo tipo di ruoli. La cantante ha anche rivelato di apprezzare la musica di Kanye West e Frank Ocean. All'interno del libretto dell'album El Malquerer ha pubblicamente ringraziato Kendrick Lamar, Diego El Cigala, Lole E. Manuel, Farrell Williams, Hector Lavoie, Beyoncé ed Estrella Morente per essere stati delle fonti di ispirazione durante il processo creativo del progetto.